calice da perugia faceva medicina mi ha mandato una lettera incredibile la tua giulietta in essa mi scriveva di cui son stato invidioso geloso era ormai relegata nel passato nessun estraneo avrebbe mai capito che si trattava del mio motorino più tardi era già medico e affermato chiese silenzio a cena con il calice e con quel moto delle spalle obliquo in cui vedevo il tratto di sua madre mi fece proprio un oraison finebra cosa fai quest'estate gli chiedemmo vado disse a scopare in jugoslavia